Avellino Palermo è una sfida ricca di ex, sono ben otto i giocatori che hanno indossato entrambe le maglie. Tra le fila dei bianco-verdi però ne mancheranno due molto attesi, Luigi Silvestri, palermitano Doc, ma anche Antonino Di Gaudi, altro giocatore che ha fatto parte del settore giovanile rosanero. Mentre ci saranno Agostino Rizzo e Vincenzo Plescia, terzini e centravanti, chiacchierato non poco dopo la sfida di andata, avranno l'occasione di giocare dal primo minuto senza dimenticare il senegalese Mamadou Canudé, che dopo la stagione dello scorso anno in Sicilia, dove non ha di certo brillato, si è rilanciato in bianco-verde con tre gol e quattro assist. Sul fronte a posto Giuseppe Fella che torna a disposizione per la gara del Partenio. Il terzino Maxime Girone e il difensore centrale Marco Perrotta che in Irpigni ha lavorato proprio con il DS De Vito. Silvio Baldini ritrova l'avellino dopo 13 anni, il bilancio contro l'allenatore dei Rosaneri di sette match giocati, quattro pareggi, due vittorie e una sconfitta. La curiosità è legata alle panchine su cui era seduto il trainer Rex Carrarese. Sei volte erano team Toscani, Empoli e Siena. In una circostanza, per uno strano scherzo del destino, era proprio su quella del Palermo nel torneo 2003-2004, partita terminata 0-0. Entrambe le vittorie bianco-verdi sono arrivate contro i bianco-neri in Serie C, 1-2 al Franchi nel 93-94 e 2-1 nel 94-95 ad Avellino. Partita tremolata di Monza dirigerà il match di domenica contro le Aquile. Sono quattro i precedenti dei bianco-verdi con il fischietto Lombardo, che ha arbitrato Picciaro-Navellino 2-3 e Terra-Navellino 1-0 nella stagione 2019-2020. Il pari a reti violate contro il Catanzaro dello scorso 30 settembre e il blitz di potenza in questa stagione per 3-1. Bilancio che recita quindi di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Quella di domenica sarà la gara numero 19 all'ombra del Partenio. Il bilancio parla di sette pareggi, sette vittorie bianco-verdi e quattro K.O. Lo scorso anno in campionato i Lupi hanno vinto 1-0 con gol di Silvestri, mentre nei play-off medesimo risultato con rete di D'Angelo, ora alla Reggiana.